sei prossimo al successo solo il circo delle anime perdute ti blocca il passaggio devi oltrepassare questa tenda rossastra per trovare la maschera dello stellato la maschera ti permetterà di evocare gli anziani e di diventare un vero avatar degli elementi ora tutto dipende da te non posso fare altro per te che il destino ti sia propizio amico mio no no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.